Continuano i servizi predisposti dal Questore di Siena per il rispetto dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Nei giorni scorsi gli equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Siena hanno effettuato controlli mirati che hanno portato a rilevare e sanzionare alcuni comportamenti in violazione delle misure. Martedì pomeriggio nei giardini della Lizza sono state individuate tre persone di nazionalità pakistana, tutti dimoranti in comuni della provincia di Siena, che in dispregio alla normativa anti-Covid stavano stazionando nei giardini senza alcuna giustificazione. Dopo un controllo approfondito sulla loro identità e sulla loro posizione relativamente al soggiorno sul territorio nazionale, è emerso che i tre avevano presentato richiesta di protezione internazionale e che per questo motivo e in attesa della definizione della pratica erano stati sistemati presso strutture della nostra provincia. Nel loro confronti è stata disposta la relativa sanzione, dopo essere stati identificati tre sono stati fatti rientrare nei loro domicili. Mercoledì mattina un giovane è stato individuato sventolare ripetutamente la propria mascherina invece di indossarla regolarmente percorrendo via banchi di sopra in un orario e in un luogo di frequente transito di persone. A richiamo degli agenti l'uomo mostrando in sofferenza ha riferito di voler prima consumare un caffè e che poi eventualmente avrebbe indossato il dispositivo di protezione. Infastidito dal controllo ha compilato in modo illeggibile davanti agli agenti un'autocertificazione fornita dagli stessi agenti. Informato della violazione commessa per il mancato uso corretto della mascherina ha poi continuato a mostrare in sofferenza per l'operato degli agenti che al termine sono riusciti a contestargli negli uffici della Questura la sanzione prevista. Per il ciclo di conferenze in medicina oggi il professor Rino Rappuoli parlerà di vaccini monoclonali per liberarci dal Covid-19 il 23 novembre alle ore 18.15 in una diretta streaming su piattaforma Zoom organizzata dall'Accademia dei Fisiocritici di cui il microbiologo di fama mondiale è socio dal 1996. Il professor Rappuoli direttore scientifico di GSK Vaccines e coordinatore del progetto di ricerca sugli anticorpi monoclonali contro il coronavirus presso Toscana Life Science spiegherà lo stato dell'arte della vaccinologia, quale strategie sono state utilizzate per sviluppare vaccini contro Covid-19 e quali avanzamenti per la scienza dei vaccini ci possiamo aspettare dall'esperienza in corso. La professoressa Lucia Ciccoli, sovrintendente all'editoria dei Fisiocritici, introdurrà alla conferenza e coordinerà le domande che attraverso la chat di Zoom potranno essere rivolte allo scienziato recentemente nominato docente presso il Dipartimento di Eccellenza di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università di Siena. Dobbiamo fare altri, in tutti i corpi dobbiamo fare altre cose. Siglato un protocollo di intesa sulle relazioni sindacali tra l'azienda ospedaliero universitaria sienese e le organizzazioni sindacali confederali della provincia di Siena e le rispettive categorie di pensionati dell'area vasta toscana sud-est. In particolare si tratta di un accordo che conferma la validità complessiva del modello della sanità toscana e rileva la necessità di potenziare e valorizzare il Servizio Sanitario Nazionale e la programmazione dei servizi per la salute ai vari livelli di competenza, garantendo la giusta destinazione dei ruoli e dei compiti tra i soggetti preposti alla programmazione rispetto ai soggetti attuatori. Con questo protocollo di intesa, spiega il direttore generale Valtere Giovannini, concordiamo insieme le regole di un sistema di relazioni sindacali basato su un confronto costante su tematiche di carattere generale che riguardino le disposizioni di programmazione e la riorganizzazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ed aziendale e la promozione della salute, la sicurezza sul lavoro e l'occupazione nell'ambito degli appalti pubblici di servizi ed edilizia sanitaria. Il sistema delle relazioni sindacali prosegue Giovannini, ha anche l'obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l'esigenza dell'azienda di potenziare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi ai cittadini. Il sistema rappresenta uno strumento fondamentale per costruire relazioni sindacali stabili improntate sulla partecipazione consapevole e sul dialogo costruttivo e trasparente. Gli incontri avverranno con cadenza trimestrale per la verifica e il monitoraggio delle decisioni assunte nei vari confronti effettuati, i sindacati potranno richiedere incontri specifici su temi particolari al di fuori di quelli programmati. Lavoro in pieno corso nell'ex CREAF di Prato, edificio di proprietà della regione destinato a diventare in tempi record il nuovo centro Covid Pegaso della Toscana, una struttura di eccellenza e di riferimento per questa patologia di livello nazionale. Nelle immagini vedete il sopralluogo effettuato dal presidente della regione Eugenio Gianni insieme all'assessora regionale alla protezione civile Monia Monni. Il primo contingente di 190 pazienti potrà essere accolto a partire dall'8 di dicembre. Io ne ho parlato con il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Bruce Aferro, ne ho parlato con il commissario Arcuri, sicuramente qualcuno di loro sarà qua, inviteremo anche il ministro Speranza perché questo diventa il primo centro italiano dedicato alla cura, all'analisi, probabilmente alla raccolta in una banca del sangue e del plasma di ciò che è la specificità Covid. I 500 posti previsti inizialmente nella struttura sono stati ridotti a 340 per far spazio a locali tecnici destinati alla ricerca e riservati al personale. Abbiamo seguito i consigli dei medici, abbiamo fatto una struttura che però potrà recuperare posti fino ad arrivare a 350 al bisogno, abbiamo quindi distanziato di più i letti, creato più spazi tecnici che siano utili alla gestione dell'ospedale che quindi rendano più semplice il lavoro ai medici, agli infermieri, al personale sanitario in generale e abbiamo ricavato uno spazio anche per 10 terapie subintensive perché come sapete questa è una struttura Covid che arriva fino all'ossigeno come dico per semplificare e per farmi capire e quindi è importante avere anche una prima risposta in caso di aggravamento e la necessità quindi di trasferirsi all'ospedale. Buona buona serata e ben trovati. La perturbazione che ci ha interessato nella giornata di ieri tende già rapidamente ad allontanarsi avremo quindi un deciso miglioramento del tempo. Lo vediamo dalla grafica per la giornata di domani sabato abbiamo già indicato un cielo sereno o poco nuvoloso con residua nuvolosità sulle zone più meridionali. Ancora però saranno presenti forti venti di grecale che manterranno le temperature piuttosto basse con valori che non supereranno i 10-12 gradi nel pomeriggio. La giornata di domenica invece vedrà il calo del vento, avremo quindi immersione termica con le temperature della mattina molto basse con gelate sulle zone interne mentre quelle del pomeriggio in gradevole aumento fino a 15-16 gradi. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e augurandovi una buona serata. Grazie. Grazie a tutti.